a causa dello tsunami tecnologico prodotto da covid abbiamo subito un balzo in avanti di almeno dieci anni ed ora è necessario porsi una semplice domanda siamo davvero pronti per tutto questo la tua azienda è pronta per affrontare la rivoluzione digitale attenzione il salto non è solamente tecnologico ma soprattutto culturale e coinvolgerà l'organizzazione della tua azienda le risorse umane i processi commerciali e promozionali la logistica le spedizioni l'assistenza clienti solo per citare alcune aree di azione e determinerà la nascita di nuove modalità ibride di vendita e di servizio che solo pochi mesi addietro erano ancora formale sperimentali basta pensare al click and collect il paga e ritira che nel corso dell'emergenza si è dimostrata la formula più utilizzata e sicura nel fare la spesa la tecnologia sarà sempre più il fattore abilitante del cambiamento ma per esprimere il suo reale valore dovrà essere integrata nei processi aziendali finalizzata agli obiettivi di business è utilizzata per servire soddisfare fidelizzare il cliente smart web 360 è il piano pensato e costruito per aiutare l'azienda italiana a vendere online in modo semplice veloce efficace e sostenibile economicamente a guida sicura e senza salti nel luogo